Ciao a tutti nel tubo, sono Giawee, oggi siamo qui in questo nuovo video della Vanilla Ragazzi lo scorso episodio vi è piaciuto tanto e sono contenta quindi mi raccomando lasciate un mi piace immediatamente Giawee vi fissa, se non lasciate un mi piace Giawee vi ammazza nel sonno, grande Giawee resta qui Quindi ragazzi in questo episodio come vedete andremo a mettere un attimo, andremo a innalzare un attimo le basi della casa Quindi mi raccomando state attenti perché dovrete darmi tanti tanti consigli durante la costruzione Ovviamente i consigli che leggerò dopo, quindi adesso vi lascio il video, buona visione Ok signori allora per costruire praticamente ho messo giù uno screen della casa Con le varie dimensioni Allora praticamente ho messo giù, devo riempire questo buco Ho un po' di terra per farlo, 29 forse bastano, ok Perché qui c'era la pietra però l'ho tolta perché non mi piaceva Ok perfetto Cosa stavo dicendo? Si ho messo, ho finito le basi della casa quindi questa qua è tutta la base L'ho finita off camera perché era noioso vederla E adesso dobbiamo innalzare un attimo il primo piano almeno da un lato Allora come dobbiamo fare per innalzare? Prendiamo un attimo lo screen che dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Devo fare su questi 3, ok Aspettate ma dal basso Ok contando quello quindi altri 6 Devo fare questa cosa qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Fantastico 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Così 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfetto 6, 6, 6 Oddio 6, 6, 6 è bruttissimo da dire Comunque a parte questo dobbiamo innalzare in questo modo Ci serve anche del vetro Maledizione ho dimenticato la sabbia Devo andarla a prendere Dovrei fare anche una farm automatica di mucche Che so che esiste e sembra molto molto carina Allora mi serve la sabbia Anche se io mi ricordo che avevo già del vetro Ops Avevo già del vetro da qualche parte Ho questi pannelli E poi Ah eccola qua un bel po' di sabbia Inoltre volevo anche ringraziare Un ragazzo Che mi ha detto che Ha delle coordinate Nel mio mondo C'è Ci sono i C'è uno spawner di scheletri Con il quale io posso fare Una bellissima farm di scheletri Che può essere molto 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 utile Mi ha dato le coordinate Vi ho lasciato in sopraimpressione il commento E c'è il messaggio in realtà Perché me l'ha scritto su facebook E se vi state chiedendo Come ha fatto a saperlo Semplicemente ragazzi Basta Usare il seed del mondo Che ho dato qualche episodio fa Nel mezzo del video Ora non ricordo purtroppo qual episodio Però basta fare questo Guardate Slash seed Il seed è questo qui E basta che Mettete il seed E potete andare A vedere il mondo Come se fosse mio Ovviamente non trovate Le costruzioni che ho fatto io Sarà solo il mondo di base Però comunque Non è una cattiva idea Ora mettiamo un attimo questi Giusto per renderci conto Ok perché poi dobbiamo fare Una cosa del genere Allora questo qui lo togliamo Ovviamente Dobbiamo fare Una cosa Così Più o meno Così E poi anche qua dovrebbe andare Questo Ok Ok allora questa è più o meno Come dovrebbe venire la finestra Allora controlliamo Sì dovrebbe essere giusto Perfetto E dobbiamo fare la stessa cosa Dall'altra parte Poi sopra andrà Altra finestra E poi dobbiamo Ricongiungere tutto Allora praticamente Allora 1,2,3,4,5,6,7 Poi un altro blocco sopra E poi si va di così Ok Ok si fa così Praticamente Perché sopra ce ne sono due Di così E quindi qua Ergerà il secondo Si ergerà il secondo piano Da qua in poi Come potete vedere Però questo Poi ce ne occupiamo dopo Adesso Dobbiamo fare questo Allora cosa facciamo Facciamo di nuovo la stessa cosa Ovvero 1,2,3 Ok Così Così E così Dovrebbe essere corretto Sì Poi ce ne andiamo qua sopra E facciamo questa cosa E questa cosa Poi saliamo di qua Un attimino con questi Ops E che cacchio Ok E facciamo Così E così Vai Ok perfetto Perfetto Così ci troviamo E mettiamo Un altro po' Di vetro Ok Questa qua È la parte Della casa Di fronte Quindi dobbiamo fare Tutta questa cosa Per più o meno Tutto il perimetro Poi dovremmo fare Ovviamente Anche l'ingresso Allora Facciamo questa cosa 1,2,3 e 4 Se non mi sbaglio Era 5 Da giù Mentre da quest'altro lato Era 1,2,3 e 4 Quindi 1,2 e 3 Poi Facciamo Al centro Se non mi sbaglio C'era tipo Sì Più o meno Da qua No Ho sbagliato Sorry Sorry Da più o meno Qua Ok A qua Se non mi sbaglio Era un'entrata Di 2 Esatto C'era Questa cosa Che adesso Andiamo a Ricopiare Ok Perfetto E poi tutto intorno Era fatto Di questi blocchi Qui Ciò vuol dire Che dobbiamo Continuare La nostra opera Da questo lato Per fare Appunto Il tetto Che arriva Fin qua Quindi dobbiamo Adesso sistemare Tutta questa parte Devo dire che sono Ops 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 Devo dire che sono Molto molto contenta Che la casa vi piaccia Perché io ho visto I vostri commenti Li ho letti Non tutti Però molti li ho letti E ho visto che Alla maggior parte di voi Questa Questa casa Piace E io sono Molto molto contenta Perché era il mio intento Io volevo Volevo che questa casa Vi piacesse Perché doveva essere Una cosa Che piaceva Sia a me Che a voi E visto che così è Sono rimasta Veramente Veramente Felice E adesso Non ci resta che Completare Questa casa E poi Trasferirci E andarci a vivere Ovviamente dovremmo mettere Tutte le varie Come si chiama Tutte le varie I mobili Queste cose qua Che magari mi consiglierete voi Come fare Perché è più semplice Così Intanto Vediamo se ci arrivo No Devo scendere per forza Che palle Il tetto Il tetto così Non è male Visto da sotto Devo dirlo Credevo di doverlo Aggiustare Invece No Mi dispiace C'è qualcosa Che non va Con il tetto Perché nella creativa Non veniva così Basso Credo di aver fatto Un errore Qui Sì L'ho fatto qua L'errore Devo un attimo Rifare il tetto Perché doveva essere Largo di 2 In questo punto Non sono riuscita A sistemare il tetto Perché credo di aver Sbagliato qualcosa Nella parte in vanilla Perché non so Non mi trovo Però non fa niente Tanto l'importante È che il tetto Venga e basta Poi come viene Non importa L'importante È che stia Bene Ok Facciamo questa cosa qui E quindi abbiamo Il nostro tettino Ok Adesso dobbiamo solo Allungare Qui Deve venire fino a qua Vieni qui piccolo Ok Così E così Perfetto E dobbiamo anche Allungare Di qua Vieni di qua Bello di mamma E finiamo Il tettuccio Dell'ingresso Che se devo dire La mia Mi piace davvero tanto Il design di questo Ok Dovrebbe fermarsi qua Sì Perfetto Guardate Spiove proprio così Letteralmente Sulla porta E mi piace Come effetto Mi piace davvero Davvero tanto L'ingresso È una delle parti Che mi piace In assoluto di più Mi piace veramente Moltissimo Poi vedete È anche Bello estetico Quindi ci piace Ci piace Poi qua No Perché la metto Sempre al contrario Vieni da me Mamma Che vieni così Perfetto Qua va messo così E poi vabbè Qua bisogna anche Rialzare Però È una cosa Che faremo Dopo Guardando quella Che tolla Mi è appena venuta In mente Che possiamo Farci una piscinetta Sì Sapete cosa Ci faremo Una bella Piscinetta Magari poi Quando troviamo Prismarine block La facciamo anche Più figa Però per il momento La teniamo In stile spiaggia Ci mettiamo La sabbia da un lato Ci mettiamo Una bella sdraio Ci costruiamo Un bello ombrellone E ci facciamo Una piccola piscina Stile Hawaii Ci costruiamo Anche qualche palma E lì facciamo Una piscinetta Lo faremo Nel prossimo episodio Però Quindi praticamente Qua sopra Si innalzerà Un altro piano Ok Ci serve Altra Birch Lì ce n'è un bordello Però vabbè Quindi qua sopra Si alzerà Un altro piano Dove magari Metteremo La camera da letto Questo sarà Tipo il salotto Qua sopra Mettiamo La camera da letto E poi Qua Di lato Dobbiamo fare Come abbiamo fatto Finora qui Immagino Però prima Io direi Che dovremmo Un attimo Fare Questa parte Dell'ingresso Allora Facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Dovrebbe essere Più o meno Così E ci Ricongiungiamo A quest'altro Punto Dovrebbe Combaciare Esattamente Poi Qua Ci facciamo Allora Qui combaciava Perfetto Ah no Perché non dobbiamo Farlo qua Scusatemi Dobbiamo farlo Su quest'altro lato Della Della casa Praticamente Adesso dobbiamo fare Tipo una specie Di finestrella Ok In questo Preciso Modo Perfetto Abbiamo anche La finestrella Di sopra Perfettissimo Che però È un po' Sfalsata Rispetto alle altre due Perché non mi trovo Diamine Ah ok Perché praticamente Lì non deve essere alto Così Deve essere alto Di uno in più Praticamente Adesso vi faccio capire tutto Questo Deve essere Non deve essere alto Quanto questo Deve essere ancora un po' Più alto Ok Così va molto molto meglio Dovrebbe essere una cosa del genere Adesso Facciamo così Ci si ricongiunge In questo punto E facciamo Questa cosa qua Ok Perfetto Così ci troviamo Molto molto meglio Così dovrebbe essere Perché poi Andiamo a fare Questa cosa qui E ci Troviamo Perfettamente Oh Ecco qua Così va molto meglio Adesso è corretto Praticamente Avevo sbagliato A A fare Tipo Dei calcoli Di qua Però adesso ci troviamo Più o meno Sì dovremmo trovarci Quindi Vediamo la foto Sì Sì siamo veramente A un punto Ottimo E io sono contenta Adesso Non ci resta che Innalzare qui Tutto quanto Il secondo piano Cioè il primo piano Scusatemi Facendo Tutte le varie Cose del caso Ovvero Arrivare fine qua Non andiamo oltre Poi per l'oltre Vediamo un'altra volta Non andiamo oltre E ci facciamo Tutto quanto Qui Così Perfetto Ok Dobbiamo praticamente Innalzare tutto Più o meno Allo stesso livello E poi Mettere giù Il legno Del pavimento O soffitto Come volete vederla voi È uguale Dobbiamo mettere Poi vabbè Ovviamente Tutto il vetro E sistemare Tutte le varie cose Ovviamente Queste sarò cose Che farò Anche off camera Perché vedere Io che posiziono Vetro tutto il tempo Non deve essere divertente Però ditemi nei commenti Cosa ne pensate Di questo inizio Della struttura Se vi piace Se dovrei modificare Qualcosa Secondo voi Se c'è Ops Se c'è qualche miglioria Che voi apportereste O madonna Ma perché non va Io premo nella parte No Allora Non stiamo andando d'accordo Non stiamo andando D'accordo O Così Se c'è qualche Appunto miglioria Che voi vorreste apportare Queste cose qui Lo sapete Io vi ascolto E sono molto contenta Di condividere Con voi Però Facciamo Tipo In questo punto Una porta Finestra Qua ci mettiamo Una porta Vediamo Se piace Vediamo Se può funzionare Come cosa Ci mettiamo Una porta In birch Che è più carina Ci facciamo anche Delle scale Di birch Perché ci servono Ok Vediamo Vediamo Un attimo Come viene Perché Così è più facile Entrare E uscire da qua Ok Facciamo Questa cosa qui Non è male Non è male Non si integra Come vedete Non è integrato Nella porta Però devo dire Però devo dire Che non mi dispiace Magari poi Sistemiamo meglio Questa cosa E viene ancora meglio Tanto di vetro Ce n'ho Posso anche Distruggerlo Sti cavoli Me ne faccio Altro E intanto Però devo finire Tutta questa zona Qua Deve essere Tutta bella Di definita Sistemata Al cento per cento No ma perché Sbaglio ogni volta A mettere le scale Perché Devo cliccare lì Oh Issa Ehi Ops Sono scesa Ok Ci siamo Perfetto Sì mi piace Proviamo a scendere Un attimo E vedere da sotto Come sembra Intanto qui c'è sempre Il nostro bel cavallo Come sembra da sotto La nostra struttura Vediamo un attimo Ci allontaniamo Così vediamo Come è uscita Beh devo dire Che per ora Non sembra affatto male Ovviamente dobbiamo Aggiungerci il tetto Al momento è abbastanza Spoglia Dobbiamo aggiungerci Il tetto E tutto Però per il momento Non è affatto male Un'altra cosa Che volevo fare Per rendere anche utile Rendere più utile Questa scala Che non è molto molto utile Visto che abbiamo l'altra Però questa scala Potrebbe rendersi utile In che modo Devo togliere Questa terra è fastidiosa In che modo Praticamente qua Farò un altro piccolo sentiero Ora non ho come la pala Un altro piccolo sentiero Qua farò altre scale Che seguono Questo tragitto Questa traiettoria Salgono E arrivano qui In questo punto Ergerò il nostro Come si chiama Oddio Non mi viene il nome Il nostro magazzino Lo farò sopra la casa In modo da essere vicino A casa Per il magazzino E sarà molto molto bello Per il magazzino Farò anche un ascensore Magari qua Costruirò qua Un ascensore Di quelli che si vedono Quindi Praticamente io potrò Fare questa mega struttura Fichissima Che scende da qua Da qua giù Da qua sotto Arriva fin qua su E ci sarà anche il vetro In modo che sia anche carino Da vedere Secondo me viene molto bella Come cosa Qua riempio di terra In modo che diventi Tutto abbastanza piatto Per costruirci appunto La struttura del magazzino Che sargerà Proprio sopra casa E nel magazzino Ovviamente Sistemeremo Tutte le varie cose Della nostra Bellissima Oddio Non ho più il cappellino Non lo sapevo Metteremo tutte le cose Della nostra Bellissima vanilla Mi piace molto L'idea di mettere qua Una piscinetta Ovviamente Devo sistemare la cosa Come devo sistemarla Beh ovviamente Devo Togliere Devo renderla più grande Devo ingrandirla un attimo E devo sistemare Tanti Tanti punti Devo mettere tutta La sabbia Un po' di sabbia Al momento ne ho Ma non ho la pala Quindi è un po' una rottura Però si Devo ingrandirla tutta Sistemare la sabbia Fare le varie cose Però può venire Una cosa Veramente Veramente Carina A mio parere Possiamo fare Una bella Bellissima Spiaggetta C'è tipo Una piscinetta Slash spiaggia E la sistemiamo qua Viene veramente Qualcosa di bello Anche per Magari Celebrare la fine Dell'estate In questo modo Con la spiaggia Che quest'estate Che ci ha accompagnato Con la vanilla Perché l'ho iniziata Quasi all'inizio Dell'estate E che è bello Mi piace Mi piace parecchio Quindi ragazzi Con la struttura Della casa Dietro di me Che sta finalmente Cominciando A prendere forma La finiremo Tra ancora qualche episodio Perché comunque Come avete visto È una casa piuttosto grande Non è complicata Però è piuttosto grande Quindi ragazzi Lasciate tanti like Tanti commenti Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti